Raja Nainggolan, centrocampista della Roma e del Belgio, ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficiale della UEFA. Chi ero da ragazzo come Raja, e come sono diventato Nainggolan? Il mio percorso verso il calcio è stato molto lungo e difficile, forse un po' in ritardo, diciamo. Però se oggi riguardo quello che ho fatto penso sia stato un grande percorso, passando per squadre magari più piccole, squadre che mi hanno fatto acquisire la maturità giusta. Sono partito, per l'Italia, quando avevo appena compiuto 17 anni e sono stato bene ovunque. Sono stato in tre squadre, io mi affeziono molto velocemente a una piazza. Come in questo caso. Sono molto contento di essere qui.